malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene quindi io affermo che se fossi a capo di un governo batterei i pugni sul tavolo per questi dieci punti poiché sono quelli che davvero distinguono uno stato di libertà da uno di schiavitù sto leggendo da questo libro le mostruose bugie dell'economia ma se lo girate trovate anche un'altra cosa c'era una volta il mondo della sovranità monetaria edito da edizioni il punto d'incontro esce il 10 di giugno e trovate le informazioni su in prevendita su www.edizioni.dincontro.it ripeto edizioni.dincontro.it e quali sono i dieci punti uno abolizione del modello della banca universale e qui trovate una spiegazione che dice che sostanzialmente c'è un modello che è la causa a mio parere di tutti i mali perlomeno quello della speculazione dell'attività speculativa della finanza che non porta invece il credito alle famiglie alle imprese poi il punto due è quello citato proprio qui la sovranità monetaria e qui si dice si deve ridare al governo al ministero del tesoro controllo del tasso di interesse come strumento sovrano di governo indirizzo controllo dell'economia e aggiungo la sovranità monetaria che abbiamo perso con le aste marginali tre riforma della banca d'italia la banca centrale di un paese deve tornare ad essere pubblica quattro cambiamento del modello di debito capire che il debito non è soltanto il debito pubblico ma anche il debito delle famiglie e delle imprese e quindi nell'interesse del popolo sovrano si deve fare investimento pubblico all'economia cinque difesa del risparmio e quindi il riconoscimento che la difesa del risparmio non è come spesso mi tocca leggere su alcuni quotidiani economici sì ma siamo un paese che non è abbastanza culturato nella costituzione non c'è detto che chi è ignorante deve essere perseguito sei l'incentivo al risparmio perché perché dobbiamo fare delle manovre che servono a ridare risparmio a famiglie e imprese è il risparmio la misura della ricchezza non il consumo sette gestione della situazione delle emergenze quindi qui dobbiamo capire come si gestiscono diciamo le problematiche di emergenza del nostro paese quindi alcuni diciamo negozi sono nulli ex tunc otto identificazione delle responsabilità mi riferisco al governo alla consob alla banca d'italia 9 abolizione del concetto di bail in 10 tendenziale azzeramento del concetto di bail out quindi ai tanti che mi scrivono soluzioni queste dieci misure unitamente ai tre principi sopra richiamati scardireb scardinerebbero completamente l'attuale sistema europeo nessuno ben consapevole volete delle soluzioni lo trovate andandovi a trovare informazioni su www edizioni il punto d'incontro punti di punto it il libro esce a giorni buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene